Il pubblico ministero Alfredo Manca, titolare delle indagini sul ferimento della dottoressa Nuccia Calindro ad opera di un cinquantenne, Luigi Amoruso, ha chiesto il giudizio immediato per l'uomo che è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti della dottoressa che riteneva colpevole per la morte della mamma. La Procura della Repubblica ha così chiesto il giudizio immediato ed ora si attende la risposta del giudice delle indagini preliminari che entro cinque giorni dovrà accogliere o respingere la richiesta. Ricordiamo i fatti del 4 dicembre scorso in cui la dottoressa Calindro è stata assalita da Amoruso che l'ha colpita con pugni e poi con un cacciavite provocando le diverse ferite. La dottoressa è stata salvata da Mustafa Helaudi, venditore ambulante che ha la sua bancarella proprio davanti al nosocomio. Infatti grazie all'intervento di Mustafa la dottoressa che era appena uscita dopo il servizio in ospedale è stata salvata. La richiesta del dottore Alfredo Manca è una richiesta di rito speciale che vuol dire saltare l'udienza preliminare, così secondo il codice di procedura penale. Luigi Amoruso è in carcere perché è destinatario della misura cautelare di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. È trascorsa appena un mese dell'aggressione e ancora oggi bisogna dire che la dottoressa Calindro e la sua famiglia. Gli effetti di un trauma anche interiore di sofferenza, il giudice per le indagini preliminari a cui è stata fatta la richiesta di rito speciale a cinque giorni di tempo per decidere per il giudizio immediato, ma sicuramente le prove non mancano. Infatti l'amoruso nell'interrogatorio con la dottoressa Romina Rizzo ha fatto emergere un profondo rancore nei confronti della dottoressa Calindro che si portava dentro dalla morte della madre per una patologia oncologica. Intanto c'è la testimonianza di Mustafa intervenuto subito, come ha sentito le richieste d'aiuto della donna. La dottoressa Calindro ha bloccato Amoruso fino all'arrivo delle forze dell'ordine.